Oh Dio, via da qui! Dov'è la palestra, dov'è la palestra? Dov'è la bomba? Ah, ecco, chi sapeva, è il giusto. Eh, diamine, se si capisce qualcosa un po' di più di altoparlanti. Un po' di più di altoparlanti. Un po' di più di altoparlanti. Quanto un calco sta? Un po' di più di altoparlanti. Un po' di più di altoparlanti. Sta zitto, tappati, chiuditi. Mangia! Eh, vedo che cos'è. Un po' di più di altoparlanti. mi ha aprito la strada e qui c'è ancora uno strama l'hai detto altoparlante dov'è la palestra? vieni fuori palestra dov'è la palestra? dov'è la palestra? dov'è la palestra? vieni fuori palestra no 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 ok ora basta passacare si ho capito lo vedo motore motore avagliotto 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 하 mi Oh no, non ci posso correre. Oh no, non ci posso correre. Oh no, non ci posso correre. Oh no, non ci posso correre questi spazi. 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 Ok, ora che sono qui. Oh no, non ci posso correre questi spazi. No, poveretti. Oh no, non ci posso correre. Oh no. Oh no. Oh no. eccoci qua ok abbiamo capito non laggare aereo? qual è aereo? 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 lo so che è una toaletta ma cosa vuol dire che non ci puoi salire? aereo? 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 Ti frustrano Ti possono uspire questi zombie? Come? Vediamo come uccidi senza armi Eh, cosa? Vabbè, sì, in effetti Per ucciderne qualcuno A mani nude Vabbè Vabbè Ma non basta come dimostrazione, cacchio Per me poteva bastare Ma qualcuno qua Sì Da Da D andiamo a cercare dei guantoni per combattere ma siamo fuori di test andiamo a cercare dei guantoni per combattere andiamo a cercare dei guantoni per combattere andiamo a cercare dei guantoni per combattere mani nude non lo so io mani nude, mani nude mica col tirapugno è così senza armi il tirapugno è un'arma io non le piega Ma come sarebbe? 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 Viggy Viggy! Cioè parla da solo questo vizio ok? Ma come sarebbe? Non intendevo ucciderlo, solo mutilarlo, debolirlo... Ma non ucciderlo... ... 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